Pronto? 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 Signora Alessandra? Si sono io chi è? Signora Alessandra noi siamo rapinatori abbiamo rapito vostro marito si vostro marito è nelle nostre mani una ronna non sta? vostro marito sta rendendo un ufo nelle 500 ma com'è possibile? il leggetto sta nelle nostre mani signora Alessandra noi banda banda molto feroce molto cattive aspettate aspettate un momento in line aspettate Gennaro Gennaro sei tu? Ma sei dovuto? no sussultato che scema da mamma che scema da mamma Pronto signor rapinatori siete ancora in linea? si siamo in linea signora Pisandra ah guardate che mio marito sta rendendo un ufo perciò fate sbagliato però sentitevi a me se cazzo mai voglio lì da bian rade me n'aggo c'è sorte è il mio ronco